Ha dato zero a tutti, nessuno escluso, dice che era pietissimo. E che poteva essere contento, non penso. Quindi, ognuno la pensa a modo suo. Oggi Perugia è venuto, non ha rubato nulla, ci ha messo in grosse difficoltà dal primo all'ultimo minuto. Lascia stare che abbiamo fatto anche due gol, abbiamo fatto due gol perché hanno mollato l'oro. Gli devo fare i complimenti perché quando si incontra una squadra così gli vanno dati solo i meriti e i dei meriti a noi perché potevamo fare qualcosa in più con l'uomo in più. Mestre, cos'è che non è funzionato rispetto a quegli anni che non è un giro? L'altro momento è avanzato per essere così. Non è funzionato, noi che non c'eravamo e abbiamo avuto di fronte una squadra forte, importante, dove ci ha messo in difficoltà, come ho detto, l'avevo già annunciato venerdì che era una squadra importante, una squadra che se si concedeva spazi ci facevano male. Non siamo stati bravi con l'uomo in più a gestire quei 10-15 minuti della fine del primo tempo per poter poi ripartire, cercare di raggiungere il pari e addirittura potercela anche giocare. Purtroppo abbiamo preso il secondo gol su un errore individuale che ci può anche stare in una partita e nella ripresa siamo stati dei polli perché abbiamo preso subito il terzo gol dove ci ha tagliato le gambe. Mestre, otto gol in due partite, abbiamo impassato otto gol in due partite. Secondo lei che cosa è successo alla difesa che nelle partite precedenti sembrava aver trovato una certa quadratura, poi un tracollo così, diciamo, improvviso? È un'annata così, che purtroppo come va va prendiamo gol. Dobbiamo cercare solo di lavorare e migliorare perché in questa maniera è difficile anche raggiungere la salvezza. La fortuna è che ora abbiamo anche la sosta, dobbiamo solo ricaricare le pile e iniziare a pensare fra due settimane la partita di Prato che è uno spareggio per non retrocedere e dobbiamo cercare solo ora di raccogliere i punti per cercare di allungare su quelle che stanno sotto. Come ho già detto, campionato è difficile, dobbiamo cercare di raggiungere questa salvezza. Quindi sei preoccupato per la scarsa personalità della squadra? No, non è che sono preoccupato per la scarsa personalità della squadra. Purtroppo quando una squadra si cambia tanto in corsa, c'è il momento dove vanno bene e poi c'è il momento dove si va meno bene. Noi abbiamo incappato due settimane dove abbiamo incontrato due squadre forti dove non siamo andati bene. Da una parte eravamo in dieci e abbiamo subito, da un'altra parte eravamo con l'home in più e abbiamo subito ancora. Quindi la fortuna, come ho detto, è che c'è la sosta e si può lavorare. C'è l'atteggiamento di qualcuno che ha dato sostenuto? No, no, non mi ha dato nessun fastidio nessuno. I ragazzi ognuno hanno cercato di... Forse che si potrebbe evitare qualche atteggiamento sul personale. Quale personale? Tipo quello di Ronaldo, di intestardirsi, non so. No, no, nessuno, non mi ha dato fastidio nessuno perché ognuno voleva vincere, nessuno ci stava a perdere. E questo è il rammarico perché abbiamo dato una delusione ai nostri tifosi. Poi è normale, se incontriamo una squadra dove va andata in merito anche alla squadra avversaria, è bene. Però vedo che c'è gente che gode nelle sconfitte del Catanzà. Questo mi fa piacere. A chi sei verificato? No, ha tanta gente che vedo qua fuori pure. No qua dentro, non è che sempre c'ho sempre con voi. Con gente che sta a fianco a noi e nelle sconfitte arriva col sorriso perché sono contento. E questo è un bene per il Catanzà. Per quanto mi riguarda mancano cinque partite, finisco il campionato, cerco di portare il Catanzà alla salvezza, anche se ho due anni di contratto, valuterò col presidente e col direttore perché in questa maniera Cozzo non continua. Questo è dovuto ad un aspetto ambientale oppure a un rapporto che tra lei e il presidente inizia ad accedere sotto alcun punto di vista? No, al presidente c'è un buon rapporto, un ottimo rapporto. Non è che per una partita di calcio devo interrompere un rapporto con una persona che conosco da tanto. Interrompo un rapporto con una società fra cinque settimane perché non ci sono le condizioni per poter andare avanti. Ma questa è un'ipotesi oppure lei ha già preso una decisione? La mia decisione è questa, che fino a fine anno darò il massimo per il Catanzà per cercare di raggiungere questa salvezza. A fine anno al 99% sottoscritto in queste condizioni non rimarrà il Catanzà. Ma mi perdoni, quali sono le condizioni? Le condizioni le sanno tutte perché qua non si può lavorare su 30 metri di campo, poi la gente ci viene a fischiare perché sul campo non facciamo quello che dobbiamo fare. Siccome lavoriamo su delle strutture inguardabili, non abbiamo un campo, non abbiamo niente, non abbiamo neanche l'acqua calda, siccome mi sono rotti i coglioni, ora devo sentire anche la gente che fischiare e non fischiare mi sono rotti i coglioni, quindi a fine anno prendo la mia decisione di cambiare aria anche. Questo è tutto. Poi può darsi pure che in futuro cambierò idea, però per il momento la mia decisione è questa ed è irremovibile. Grazie.